Piccoli archeologi crescono, il caso di dire. Francesca, Università di Bari qui a Siponto per questa campagna di scavi. Che esperienza stai vivendo? Io sono una dottoranda dell'Università di Bari, ci sono tanti studenti del corso di laurea magistrale, della triennale. È un'esperienza chiaramente molto formativa, ha più livelli per ognuno di loro e ognuno di noi anche. C'è anche tanta voglia perché è l'inizio di un progetto di più anni, quindi siamo tutti ben entusiasti e consapevoli che sarà un'opportunità di crescita anche sul lungo periodo. E a questa campagna di scavi partecipano anche i ragazzi di Manfredonia. Il futuro lavorativo inizia proprio da queste iniziative? Sì, credo che sia un'opportunità di rilancio per tutta la città, per tutta la comunità cittadina che finalmente è al centro di questa rinnovata campagna di scavi che comunque sicuramente rivelerà delle grandi sorprese e sarà al centro di grandi studi. Sì, infatti comunque è un valore aggiunto alla nostra città in quanto per più di vent'anni non ci sono stati altri scavi. Finalmente dopo vent'anni riusciamo a far ripartire uno scavo qui che speriamo ci porti come già sta dando grandi risultati per far comprendere anche quanto fosse importante sin dall'antichità la nostra città e quanto valore possiamo ancora darle.